Siamo qui per presentare il nuovo acquisto del Ciliverghem, il Kamu Taufer, centrocampista classe 1998, direttamente da Alfa Silkenema in Etiopia e un passato all'Arzachene all'Inter. Benvenuto a Ciliverghem. Hai svolto un po' di allenamenti con la squadra prima della tua ufficializzazione, cosa provi adesso nel diventarne parte? Sono contento, ho fatto questa preparazione di un mese e mi sono trovato bene sia con il mister che con il gruppo e ora sono contento, ho voglia di, dopo questi mesi di stop, ritornare in campo, a livello spogliatoio e iniziare a lavorare. Ti sei già prefissato degli obiettivi per affrontare al meglio questa stagione? Come ogni anno abbiamo un obiettivo di squadra, un obiettivo personale che corrispondono, quindi voglio sia far bene io e soprattutto che la squadra si esprima al meglio e quindi possiamo fare tutti bene. Hai assistito indirettamente alle prime due gare di Coppa Italia, cosa pensi serva alla squadra per migliorare? Il gruppo è un buon gruppo, anche la partita di domenica abbiamo fatto contro una squadra organizzata come Lumezzane un buon punto, io penso che ci manca ancora di allenarci tutti insieme per conoscersi meglio e poi sono sicuro che faremo il nostro buon campionato.